Tra arte e tradizione si colloca il progetto Stone Trade, che pone in primo piano una materia madre della nostra terra, la pietra. Nato dalla collaborazione dei comuni di Carpignano e Zollino con l'Unione Regionale dei Comuni dell'Epiro, mette a confronto l'arte dell'estrazione e lavorazione della pietra in Puglia e nell'Epiro, regioni che da sempre condividono una storia culturale e sociale comune. Promuovere e tutelare ma anche tramandare alle future generazioni tutto quello che è patrimonio legato alla tradizione della pietra. Questo è l'obiettivo del progetto, di questa collaborazione pronta a mettere a confronto le proprie secolari esperienze per riuscire nell'intento. Un intento che guarda al futuro e cerca di solcare un sentiero che apra le porte ad un turismo rurale, potenziando così i flussi di entrata di entrambe le località. E poiché l'arte della pietra non è solo un antico mestiere ma una vera e propria scienza, verranno attivati dei centri formativi sia in Puglia che in Grecia, dove si potranno studiare e apprendere le tante affascinanti tecniche della lavorazione della pietra. È una progettazione che scaturisce da tradizioni che in qualche modo sono simili, perché la pietra accomuna un po' la tradizione del nostro territorio come quella dell'Epiro e quindi della Grecia antica. È un progetto che non vuole essere in qualche modo fino a se stesso, ma vuole avere delle prospettive future in termini di formazione per i giovani, in modo che rimanga viva questa tradizione, ma per i territori ovviamente è un'occasione di manifestare la propria cultura e promuovere il territorio attraverso il turismo e l'intescambio. Le iniziative saranno tantissime e tanti gli interventi che si susseguiranno nei comuni di Carpignano e di Zollino e poi anche i partner greci faranno altrettanto dall'altra parte del Mediterraneo. Iniziative culturali, ma anche la possibilità di catalogare, di studiare e di mettere a disposizione di tutti, studiosi e curiosi, tutta una serie di informazioni, di documentazione relativa all'importanza della pietra nei nostri territori.